buon buona visione a tutti coloro che incapperanno in questo video allora oggi è il 6 ottobre del 2022 sono le 10 un quarto e quello che vedete è il compito che ci stiamo prefiggendo che ho detto la data vi dico quando appunto io sto parlando perché qualcuno magari vedrà questo qualcuno che mi sta seguendo avrà questa diciamo lettura temporale con una certa continuità qualcun altro invece vedrà questo video tra un anno due anni e tre anni che ne so io quindi vi saluto dal dal passato mentre agli amici che già mi seguono dico ben ritrovati e tanto tempo che non ci vediamo e cosa ho fatto in questo periodo voi dovete sapere anche che vi ho un po lasciato vi ho lasciato con 300 video e passa quindi non potete lamentarvi perché se li seguite tutti arriverete a un livello base che vi permetterà comunque anche l'inserimento nel mondo del lavoro sempre se avete già altri pre-requisiti detto ciò quindi volevo fare una piccola degressione una piccola diciamo scartamento anche perché ormai con molti di voi mi conoscono e sanno che io non mi occupo solo di scuola di così via sono stato insegnante per tanto anni però ho portato avanti anche un discorso di tipo artistico allora volevo dire a questi amici che la mia assenza è stata comunque diciamo comunque densamente abitata da vari eventi anche purtroppo lo ripeto l'ho già detto in un ultimo video il mio amico che era una parte ormai di me era una mia ombra una bellissima ombra e se n'è andato sono sei mesi sei mesi che non c'è più detto questa cosa invece poi ho fatto altre cose anche un po per dimenticare questo piccolo ma intensissimo dolore io in realtà ve lo dico lo sento molto grande perché un animale per me non riesco a fare differenza tra tra gli uomini gli animali le cose la natura e così via però chiuso questo discorso voglio far vedere che cosa ho fatto recentemente ho partecipato questo il mio instagram va beh questo sono io e questo in instagram se qualcuno vuole seguirmi qualcuno già lo fa ho portato avanti questo discorso questo discorso ho fatto qui vedete questo forse un video ho portato avanti così una un'installazione quelle che nell'arte attualmente si chiamano installazioni chi di voi abituato a questo linguaggio sa benissimo questa installazione qui va beh sono io con con l'amico christian che mi ha dato una mano lo sponsor il mio sponsor della lacos di boffalore che fa serramenti e lui è il capo responsabile della falegnameria grazie a loro potuto fare questo lavoro sono qui vedete alcune foto di questo lavoro ok questo lavoro è molto tecnico tra l'altro e mi sono mi sono avvalso sia del controllo numerico per tagliarlo e fare e mi sono avvalso quindi di autocad e niente lavoro è venuto proprio come io l'ho ideato si chiama giro giro tondo casca al mondo casca a terra tutti giù per terra e nell'ambito delle inclusioni una mostra di arte contemporanea con cura di edoardo maffeo e isabella passadore e qui terminata e niente quindi ho fatto quello poi va bene nel frattempo ho fatto anche questi quadri recentemente con fondo oro e ok vabbè allora ritorniamo a noi mi dispiace per chi non è molto interessato quindi alla mia persona ma più interessato alla lezione ecco questo invece questa cosa invece può interessarvi perché un 3d in questo caso l'ho fatto con autocad e poi ho fatto un rendering questo è un like di due metri e mezzo che verrà verrà posto sulla sulla diciamo rotonda di un paese di un paese di corbetta non sono rotonda importante e sarà una scultura quindi fatta da me forse vediamo anche posso farvi vedere ecco qui qui vedete quest'altro bravissimo carpentiere max che mi sta aiutando a finire questo lavoro con dell'acciaio corten e qui vedete questi inserti rappresenterebbero ci sarà dell'acciaio invece inossidabile che rappresenterà uno specchio rotto vuole essere la mia un po la critica l'abuso che si fa del del like a tutti piace ricevere i like però quando troppo troppo ok va bene chiuso questo discorso ok passerei al nostro lavoro io già reso e doti su tante cose ha tra l'altro inizia il nuovo anno scolastico e quindi saluto tutti i ragazzi che stanno seguendo questo corso quindi non solo nella mia ex scuola ma in tante altre scuole tanti colleghi stanno usando questo corso come base d'appoggio per introdurre al al cad 3d allora più portato via tanto tempo andiamo all'atto pratico e quindi attraverso queste misure in questo noi eseguiremo questo pezzo meccanico questo pezzo meccanico come lo possiamo chiamare boh non saprei dirvi a una flangia di fissaggio e poi a uno no uno snodo che potremmo considerare uno snodo sferico no vedete qui come se potesse ruotare qualcosa intorno a questo snodo quindi qui ci sarà non so come è non non è mai capitato di usare questi questi snodi sicuramente una cosa di carattere meccanico allora andiamo a vedere le misure e quindi impostiamo il lavoro quindi il lavoro io già l'ho fatto no e quindi questo è ok vediamo come farlo chi è già avanti che già fatto tutti gli esercizi precedenti lo invito a farlo stoppando qui il video e poi eventualmente in vedere se sono riusciti a finirlo e poi andare a curiosare un po su quello che ho fatto io ok quindi allora io sto utilizzando attualmente inventor 2022 però nulla di che con il precedente io usavo precedentemente 2018 allora che cosa dobbiamo fare qui ho già fatto l'unato io gli ho dato il nome snodo sferico poi in realtà può essere supporto può essere un giunto ok noi per comunità chiamiamolo così quindi io faccio nuovo devo aprire devo creare una parte quindi lo chiamo standard pt crea ok intanto mentre mi apre questo vado a vedere le misure che mi interessano allora le misure che mi interessano sono il sono qui ok quindi io qui una base io partirei dalla base a fare questa no vede come fatta sotto abbiamo quindi questa specie di di bordo ondulato creato da questi questi archi di raggio 36 con questi raggi 76 alternati a questi sei fori ok così messi attenzione quando trovate sei fori vedete che alcuni passano di qui gli altri a 60 gradi si susseguono quindi su questo asse quindi è evidente che lo scasso che c'è in questo in questo senso è ortogonale a questo asse con i fori attenzione perché se voi lo faceste diversamente qui avrebbe quindi l'avvallamento quindi state sempre attenti all'orientamento quando le cose non sono perfettamente simmetriche ok quindi allora valutiamo come costruire questo allora io l'ho già costruito e ho utilizzato questo sistema quindi su questo cerchio io posizionerò una serie di cerchi raggio 36 ok quindi vado a costruirmi nella parte 1 qui nuovo uno schizzo 2d ok questo schizzo 2d vado a utilizzare lo metto su questo piano lo metto su questo piano e considero ok questo piano creare un cerchio del diametro di 100 raggio 140 quindi di anni io sono sul diametro potrei anche prendere potrei anche prendere come come riferimento invece del diametro anche il raggio però 140 è facile dire che 280 ok quindi diametro 280 siccome questa qui non è una linea di costruzione a selezione la faccio diventare una linea di costruzione vedete linea di costruzione ora andrei a posizionare qui un cerchio ok abbiamo detto che il diciamo è raggio 36 quindi è diametro 72 e io qui mi farei un cerchio su quella di 72 di diametro ok questo però deve stare allineato qui però andiamo a vedere perché penso di avere sbagliato dove deve essere allineato no è giusto deve essere allineato qui ok allora gli vado a dire gli vado a dire che che orizzontalmente orizzontalmente questo punto è su questa orizzontalità ok a questo punto posso anche vediamo se me li taglia questi signori qui sì sì questo è me li taglia ok a questo punto posso dirgli fammi fammi sei quindi fammi una serie circolare di questo punto rispetto a questo centro il verso non mi interessa sono vedete sono sei gli dico che me li a crearmi vediamo un cerchio qui ok faccio a caso ma in realtà il suo diametro è è un raggio 76 raggio 76 per cui allora innanzitutto faccio una cosa che verticalmente già lo allineo qui ok poi vado a chiedere la tangenza dico di farmi tangente ok tangente questo 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 con questo qua di già devo vedere se mi taglia questo qui si mi ha tagliato questo ok voglio vedere se mi taglia questa parte qui questa parte qui non me la taglia guardate questa parte non me la taglia ok quindi questo qui è un bel casino questo è un bel casino andiamo a vedere cosa si può fare allora un bel casino relativamente perché innanzitutto facciamo la la gli diamo di questo elemento una serie circolare rispetto a questo punto rispetto a questo punto ok sono sei e li ho beccati tutti sei ecco io già qui in linea di massima dovrei poter escludere visto che qui non riesco a tagliare questo pezzettino eccedente questo non riesco a capire il motivo non riesco a capire il motivo comunque proviamo a fare un'estrusione allora questo caso andiamo a vedere ecco qui di estrudere di 6 mm guardate qui vedete è di no scusate di 20 mm e l'estrusione di questa flangia e poi guardate che qui sotto abbiamo un ancora un rialzo andiamo con l'imbocco da andare a vedere quindi dobbiamo fare l'estrusione di 20 e poi andremo a completare il discorso andiamo a vedere estrusione allora a quanto pare ci ha preso tutto in un colpo quindi quella parte proviamo annullare vedete questo errore che c'era non ce lo considera e ci considera una continuità per cui benissimo lo facciamo anche se mi rimane qui sul gozzo il perché non mi vuol tagliare quelle parti che dovrebbe tagliare tranquillamente quindi estrusione e vado ad estrudere verso l'alto di 20 mm che modifico 20 e ok fatto a questo punto cosa dobbiamo fare ci metteremo un bel foro questo foro come fatto questo foro è fatto in questo modo vedete l'amato ma ha una doppia lamatura perché anche sotto lo lo è cioè qui sotto andiamo aggiungere questa quota che mi è rimasta allora questa quota un fi 35 allora abbiamo una lamatura qui ok questo è un foro lamato voi sapete che noi possiamo anche fare i fori lamati io direi di fare un foro lamato con 5 10 22 ok quindi 5 10 22 quindi creere chiederei di fare un foro dove qui e poi prendo questo arco lui si c'entra e gli dico guarda tu sei un foro lamato sei un foro lamato ok dove questo qui è 22 questo qui è 5 tu sei un foro lamato 2 e 5 ok e il diametro qui e 10 ok facciamo passante no non io ho scelto questa tipologia invece devo devo allora non capisco perché non me lo fa passante just a moment questa misura non deve esserci quindi ripeto foro foro di questa tipologia con questa foratura ma io non voglio questa misura terminazione tutte le facce eccolo qui scusate ecco qui tutte le facce allora vado a dirgli che lo voglio di 22 che questo lo voglio di 5 che questo lo voglio di 10 ok qui concentrico qui ok e me lo fa benissimo andiamo a vedere sotto cosa è successo eccolo qui il passante ma qui sotto conviene fare allora io potrei sempre agire con foro potrei fare anche uno schizzo 2d e fare la lamatura però prendiamo confidenza con foro è più macchinoso ma quando imparate poi a utilizzarlo questo vi troverete bene ok quindi io qui devo fare un foro da 35 quello sotto vi ricordate 35 per 2 quindi cosa devo fare un foro piatto così allora gli vado a dire e torniamo qui e posso dire fammi un foro fammi un foro normale fammi un foro normale ma con con una determinazione cioè non tutte le facce non l'amato eh non l'amato però eh voglio questo quindi un foro normale ok ma con la punta non non la punta da 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 punta forata con l'angolo da 120 ma piatta ok quanto era il diametro abbiamo detto che lo voglio il diametro è di 35 dove qui eh concentrico qui eh la misura non è 8 mm ma in questo caso è 2 eh in questo caso è 2 ok l'ho fatto è macchinoso no? faccio lo schizzo dice ma faccio lo schizzo facevi prima sì ma è bene saper usare e quindi imparare quindi mettersi eh diciamo in condizione di allenarci quindi adesso facciamo una invece una serie circolare sia di questa lavorazione che di quella sotto che la prendo da qui ok eh gli dico gli dico sono sei le lavorazioni no? l'asse di rotazione vado ad aprire le origini e vado a prendere un tra gli assi vado a prendere questo eh quindi assi di rotazione scusatemi questo ok che differenza c'è tra quello che ho fatto prima e adesso? quello che ho fatto prima era eh una serie 2d questa è una serie 3d ok fatta finita benissimo adesso cos'è? com'è fatto sto pezzo? andiamo a ragionare questo pezzo voi dovete immaginarlo guardate qui un po' eh immaginare che questa qui è una sfera una sfera appoggiata a un tronchetto che dopo viene raccordato qui e qui ah sì e quante sono le misure? guarda qui allora il diametro il diametro di questo di questa parte che rimane vedete questa parte qui lo andiamo a a mettere ed è un fi 130 ok quindi a 130 quello poi abbiamo una sfera raggio 100 quindi diametro 200 a 150 da qui sotto benissimo allora ci portiamo adesso a eh a eseguirlo quindi io farò uno schizzo 2d eh qui è poco importante quale piano può essere o questo o questo poco ci importa mi piace prendere questo qui prendo questo allora facciamo F7 F7 tasto funzione F7 ci seziona anche il tutto ci fa vedere ok allora a questo punto io costruisco un cerchio raggio 200 ok diametro 200 scusate e lo porto all'incirca qui poi gli dico che verticalmente deve starmi allineato qui ok a che distanza da qui a qui sotto deve essere 150 ok ora dovendo farmi dovendo fare una una parte sferica io devo tagliare questo devo tagliarlo ok questa è una linea verticale ha preso questa proprietà ora gli vado a dire che deve verticalmente il suo centro andare qui ok taglio questa eccedenza questa e questa ok e volendo posso aggiungere direttamente il gambo e farlo tutto in una volta sola cioè ricordatevi che il gambo è 130 quindi mezzo gambo è 65 ok quindi vado qui e di faccio una linea che mi va da qui a qui ok e la taglio qui qui vedete che non la taglio perché non la taglio eh non la taglio perché devo proiettare la geometria lui non sa che esiste allora gli devo dire guarda che tu esisti questo segmento qui qui passa vedete qui ne ha adesso ne ha presi tanti prendiamo questo che eh sicuramente intersecherà qui tagliamo e diciamo taglia e lui ora si è agganciato vedete qual è la sua prerogativa vedete ok a questo punto gli dici che da qui a qui è di 65 ho sbagliato di 9 10 65 ok ora però vado a chiudere anche qui a qui e poi da qui a qui taglio quello che non mi serve che è questo ok tutto rimane nero chi ha una versione differente di questo colore gli indicherà comunque il nostro caso ci indica che è tutto totalmente vincolato concludo lo schizzo vado a chiedergli la rivoluzione di questa parte e lui mi dice questa parte sì su che asse allora su questo asse ok ok la faccio ok vado ad aggiungergli altri elementi io non non tirerei troppo lungo questo video per non renderlo troppo pesante e andrei comunque a fare subito comunque la la parte ok raggio 25 raggio 45 quindi 25 quello sotto 45 quello sopra quindi raccordo di 25 ok questo sotto e gli do l'ok poi raccordo di 45 questo sopra ok bene allora io gli metterei come materiale metterei un acciaio eh un acciaio inox un acciaio c'è inossidabile ok ok quindi la nostra sfera ok vediamo di girarli attorno eccola qui adesso dobbiamo fare un bel po' di altre cose eh ok allora ne farei ancora una poi mi sospenderei allora andrei a tagliare vedete come è fatto qui vedete anzi non qui bensì qui vedete lui dice che a 150 c'è un taglio fatto da questo raggio 80 raggio 60 raggio 80 centrato nel 150 eh ok centrato qui nel 150 ok allora ok vedete allora raggio 80 raggio 60 andiamo a fare questa questo primo taglio ok eh qui già chi è precipitoso rischia di andargli o bene o male ha il 50% di possibilità di azzeccarlo vedete che il taglio io lo devo fare precisamente in una condizione cioè vedete che il taglio ok guardiamolo da qui è fatto non sui fori vedete corre in questa direzione siccome noi adesso disegniamo questo così lo disegniamo così perfettamente dovremo avere un foro che guarda verso di noi ok allora dobbiamo andare a posizionare il foro che guarda verso di noi è qui così no vediamo mettiamoci in questa condizione vedete che non è così già sbaglierei dovremmo metterci così eh quindi io dovrò hm andare a sezionare e creare un uno schizzo 2D schizzo 2D sul piano di origine che sia questo o questo andiamo a vedere deve essere io devo avere il piano lo devo disegnare qui devo avere il foro verso di me il piano mi deve evidenziare il foro verso di me quindi il piano questo è vedete questo questo non lo è perché qui non c'è foro invece in questo caso il foro perché mi sono dilungato in questa cosa prima per non sbagliare io e poi perché vi ricordo che si arriva a un certo punto e ci si accorgi di avere fatto un errore del genere e mmm sono casini dopo eh sono casini allora schizzo 2D quindi avvia avvia lo schizzo 2D abbiamo detto siamo già dentro lo schizzo 2D giusto? siamo già dentro facciamo F7 no allora questo schizzo 2D quindi avvia schizzo 2D no ah no si sono dentro perché non mi fa F7 F7 eccolo qua perfetto allora proietto la geometria di tutto ciò eventualmente anche di qui sotto ma non impone qui sotto non mi interessa non me lo prende allora io vado a fare un cerchio che ha questo centro ok e poi un altro cerchio qui ok questo qui era un cerchio da 60 quindi di raggio quindi 120 questo invece era quello da eh 80 era quello da 80 no scusate si raggio 80 ok quindi raggio 80 diventa 160 ok chiedo di essere tangente questa prima caratteristica questo deve essere tangente qui ok ma ciò mi basta ciò mi basta tenendo conto che dovrò specchiarlo anche di là andiamo a vedere questo raggio ok raggio 60 raggio 180 ok eh ha una ha un centro che io qui non ho messo adesso diamogli il centro di questo raggio che è qui anzi aspetta un attimo questo non mi piace torniamo indietro di uno prendo sicuramente questo arco perché qui c'è un taglio che è che può essere sfalsato quindi chiedo di prendere il centro di questo cerchio ok ora lo vado a quotare perché questa quota non ce l'ho per cui non riusciremo a sviluppare il allora è 182 da sotto 182 da sotto l'altro e ritorniamo qui scusate ritorniamo qui lo vado a quotare gli dico tu da qui da qui da qui 6 182 aspetta mi è venuto un dubbio mi è venuto un dubbio 182 no è da sotto il 6 è la parte aggiunta che non abbiamo ancora fatto che facciamo dopo ok 182 benissimo allora adesso io posso andare a tagliare questo e anche questa parte puoi chiedere di fare uno specchio allora specchio in questo caso stiamo facendo uno specchio 2D ok linea di riflessione io non ho qui una linea di riflessione ok l'asse non me lo prende allora conviene che mi crei una linea qui provvisoria fuori dalle balle però è una linea di riflessione basta che passi di lì che sia verticale passi dal centro che sia verticale quindi vado a dire specchio di questo archetto rispetto a questa linea di riflessione allora linea di riflessione è questa andiamo fatto perché non me lo fa specchio di questa linea di riflessione questa non capisco il motivo questa cosa non mi piace la tiro su di più quindi speculare seleziono quindi seleziono questa linea di riflessione seleziono questa applica no lui voleva applica e non fatto vabbè ragazzi se mi danno la pensione ci sarà un motivo taglio questa parte e questa parte ok quindi devo tenere questa la voglio ridurre se no mi può creare dei problemi e ora vado a fare concludo lo schizzo concludo lo schizzo e mi metto in questa posizione vado a fare l'estrusione di quest'area ah un amico mi ha suggerito siccome vedete che si vede se io dico fammi estrusione di qualcosa che è dentro lui me lo evidenzia però non sempre è così evidente quindi lui mi dice però provi a fare vista la come vista di mettergli in questi casi gli metti eh per esempio ombreggiata con spigoli nascosti e tu vedi la vedi più oppure addirittura addirittura con wireframe no fil di ferro e tu la puoi la puoi determinare molto meglio allora vedi la vedi molto più evidentemente più evidente quindi facciamola anche in questo modo in omaggio all'amico che ci ha suggerito diciamo eh qui con una distanza eh diciamo tutte le facce sinistra destra tutte le facce attenzione ma in aggiunta no se no non avrebbe nulla da aggiungere ma in sottrazione si ti fa vedere cosa porterebbe via io dico ok l'ha fatta eh però questa vista qui non la possiamo utilizzare costantemente andiamo sempre su ombreggiata taccospigoli che ci piace di più ok quindi siamo arrivati a questo punto eh io ehm farei l'unica cosa qui sotto ehm andrei a fare uno schizzo 2D qui sotto ok farei i due cerchi che sono uno ehm di andiamo a vedere le misure uno di 152 e l'altro di 120 e poi studeremo di 6 120 152 allora 152 e 120 ok concludo lo schizzo e vado a fare l'estrusione anzi mi metto sotto l'estrusione di questo settore circolare di 6 millimetri allora siamo arrivati qui e andiamo a fare la parte più importante la parte interna che è abbastanza interessante non è un pezzo difficile ma non è neanche un pezzo così facile quindi ehm al prossimo video eh prosecuzione di questo